Signori, benvenuti in una nuova puntata di Man of Medan, la serie che sto dedicando a The Dark Pitus Anthologies Ragazzi, mi raccomando, io ci tengo tantissimo a questa serie Quasi quanto, cioè no, quasi quanto, quanto le serie che faccio su Minecraft ragazzi Quindi, io mi piace ogni tanto, dedicateli anche a Man of Medan Perché ragazzi, voglio portare assolutamente qualcosa di diverso all'interno del canale Perché se no, ragazzi, solo Minecraft Dopo un po', a me mi stanno tuffa le palle Poi devo iniziare, cioè magari perdo la voglia E magari anche Minecraft subisce un calo rispetto a altre serie Anche perché, ragazzi, vi spiego un attimo una cosa Nel frattempo che io registro Man of Medan O comunque registro altre cose che non siano Minecraft In poche parole, faccio dell'off camera Mi dà del tempo per fare dell'off camera con Minecraft Quindi, cosa vuol dire questo? Che quando arriveremo a giocare, ovviamente, con Minecraft Avremo un livello Scusate, un sigliozzo Un livello un po' avanzato all'interno del gioco Senza esagerare, ovviamente Magari un farming in più, capito? Queste cosine qua Anziché fare delle puntate che sanno di monotonia E niente Quindi meglio, magari tipo, aggiungere qualcosa di diverso In modo che io riesca a distrarmi un po' E magari tipo a portarvi contenuto originale Sia su Minecraft che con altre serie, ovviamente Man of Medan, come vi ho detto precedentemente Io non lo conosco Conosco solo The Raven and Me Che era molto carino E ho fatto un minimo di House of Ashes Mentre gli altri due che ci mancano Ovvero Little Hope e questo Ragazzi, non ho la più pallida idea di come sono i giochi Quindi, avendo la possibilità di giocarli tutti e quattro Poi, ovviamente, anche i futuri Andrà tutto secondo i piani, ovviamente Se, ovviamente, fate il favore O comunque, se vi piace, se non vi piace Datemi un commentino, un aiutino Giusto per Giusto per, diciamo, per farmi capire Se vi piace la serie oppure no Ok, continuiamo il gioco Eravamo all'interno della barchetta E stavamo andando all'interno dell'oceano Probabilmente beccheremo la nave Del prologo Adesso vediamo Ti butta fuori tutto Sì Vuoi andare a sdraiare? Sì Forse è meglio Santo cielo Che ne dici di qua giù? Mi sembra molto fuori mano Valuto solo mete alternative Se la telecamera non trovasse niente In realtà non ho mai sentito Del relitto che cercate In genere pullulano di turisti Sì ma Questo è diverso Allora, ok Io non ho guardato la data Ma presumo che sia nel futuro C'è molto nel futuro C'è almeno La butto lì Almeno 30 anni nel futuro Perché telecamere No, 30 anni no raga Almeno 60 buoni Cioè sarà al minimo nel 2000 Ambientato negli anni 2000 Adesso Non ho visto la data Ovviamente All'inizio nel prologo Quindi non so Allora Avevo già il mezzo sentore C'era puzza di Questa qua O c'è sta a prova Oppure Stavano assieme Poi si sono Non lo so Raga La butto lì La butto lì Ok Brad Se non domani Che il reddito è qui È qui Ok Sei tu il freddo Dico solo che prima o poi Allora Questa è una testa di cazzo C'è proprio Sta sul culo Allora Cioè vabbè Dai andiamo avanti Aiuto Conrad e Giulia Con la telecamera Che c'è? Guardate che bellezza Adesso il plano Però è questo Calcoli di Brad Erano precisi al millimetro Brad non sbaglia mai Sì è un mago Va ringraziato Liz Qui c'è un aereo Sì? Sì sembra della seconda guerra Possiamo scendere Veramente dovremmo comunicarlo alle autorità portuali Come il reddito ignoto Sì tecnicamente Sicuri di non voler seguire le regole? Ok allora Siccome lo stiamo interpretando come una testa di minchia Continuiamo a interpretarlo come una testa di minchia Perché effettivamente mi ha dato quell'impressione Quindi fastidio Beh Per quanto ne sanno potremmo averlo trovato nuotando Che importa? Le regole? Dai dove siamo? All'asile Era giusto avvertirti Se diamo soltanto un'occhiata Chi lo saprà? Ok Ma fate in fretta Non toccate nulla Non vedo l'ora di essere la prima a scoprirlo Incredibile no? È intatto Tra poco sarà tutto pronto per l'immersione Io preparo le bombole I ragazzi faranno i controlli Guarda la telecamera Vedi se trovi qualcosa di utile Agli ordini Dovresti parlare a tuo fratello Mh-mh-mh-mh-mh Penso sia un galleggiante No? Però Cioè Che sia solo quello la cosa che mi fa vedere Boh Mi sembra strano E il galleggiante c'è ancora Il galleggiante c'è ancora Presumo Magari in futuro Sapendo che c'è il minocolo lì Può darsi La butto lì Perché ogni tanto C'è un'apertura sulla coda Guarda E' un po' di certo E' un po' di certo ok si presumo che sia finito è stato sparito insomma interagisce anche senza interagire cioè diciamo preoccupazione no interessa serve una mano? non ho mai usato un ribritter direi che non siamo messi male ma in effetti sarebbe meglio se sapessi anche tu come funziona sarò sincera in ora il capitano non mi entusiasma allora allora il discorso di fare severità sorvogliamo per ora e sostegno sta facendo una fortuna c'è anche l'opzione di non rispondere quindi ovviamente il fatto di non rispondere è sempre un'opzione valida però quanto valida perché effettivamente non rispondere non so quante informazioni riusciamo a beccare così possiamo puntare perché non ho ben capito effettivamente il rapporto tra lui e il capitano della barca della nave cioè più che nave è barca comunque mi dà l'impressione che ci sia stato un trascorso quindi effettivamente ci sia stato qualcosa facciamo tipo sorvoliamo per ora e poi vediamo sì lo so ma sorvoliamo per ora sorvolare perché? non conviene prenderla di petto se si azzarda ancora impedirmi di fare questa immersione ok allora la teoria ovviamente si inizia a prendere come si dice la cosa della verità perché effettivamente se lui dice non conviene prenderla di petto quindi vuol dire che la conosci sai come si comporta sai qual è il suo comportamento il carattere giuro perdo le staffe capisco solo facci piano bene finisco di preparare i rebreater poi ripeteremo gli ultimi passaggi insieme ottimo chiamaci quando sei pronta parliamo proprio con il capitano eh sai come si usa? beh perché la sp... no non proprio sarà meglio che lo lasci in pace anche perché l'hai spento imbecille cioè fammi capire potevo scegliere se parlare con lei ecco allora 31080 ecco allora già che lei è nata nell'83 mi fa ben capire che effettivamente abbia circa 20 anni 20-25 anni quindi bene o male dovrebbe essere ambientato negli anni 2000 la il settore deve essere ambientato l'autorizzato a tenere i corsi e la blablabla non sembra in regola e qui l'imbecilla sempre quello? ok posso parlare con lei? si ciao 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 allora non so bene che tipo di rapporto ci sia tra i due però mi è palese il fatto che ci sia un rapporto tra i due continuiamo a fare gli stronzi oppure magari tipo chiediamo scusa io proverei a chiedere scusa perché magari riusciamo a capire qualcosa di più sulla loro relazione vediamo ok allora una scelta non l'avremmo potuta fare se non avessimo guardato il documento invece avendo guardato il documento lui sa che comunque le credenziali sue sono abbastanza cioè sono scadute e quindi niente si potrebbe puntare a quello? ho esplodato due relitti si possiamo fare anche i fighi vediamo dai facciamo ho visitato un paio di relitti non sono un esperto ma ho esperienza se questo è il tuo primo relitto non denunciato sappi che esiste uno specifico protocollo da rispettare per quanto ne sapete voi potrebbe essere una tomba violarla sarebbe illegale e immorale allora in entrambi i casi la scelta sua è la testa di minchia perché effettivamente da entrambi i casi mi fa mi dà una risposta che comunque non mi piace però c'è anche l'opzione non dire niente allora non vorrei provare a comprarla perché effettivamente secondo me è sbagliato cioè sarebbe sbagliato ma lui non è nella posizione di farlo perché sono gli altri due ad avere i soldi quindi secondo me potremmo provare aggressività andiamo vedi qualcuno in giro chi lo saprà abbiamo depositato la rotta al porto se si rendono conto della deviazione faranno subito 2 più 2 specie se qualche souvenir finisce online e va bene non posso fermarti ma rispetta le regole evita ogni sciocchezza che possa mettermi nei guai mi dà l'impressione che effettivamente si conoscano loro due non capisco cosa sia ok la prima immagine me l'immaginavo destino segnato trovate il reddito vedi premonizioni allora questo è il fratello che si alza penso dalla camera però non si capisce effettivamente molto di quello che succede non so se si sta magari tipo curando qualcosa una ferita un qualcosa del genere o togliendo o togliendo qualcosa che lo teniamo legato ok 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 a quanto pare tu le ha portato l'intero guardaroba se fosse buono quanto costa eh almeno lei che ci fa i profumi i profumi sono sempre così quindi shroud o final sense non so cosa voglia dire shroud in inglese non ne ho assolutamente idea dunque un libro per questa situazione non è mai un'idea brutta diciamo ok tanto il quadro avremmo visto che era intera che si entra come va scusa quella birra mi ha proprio steso ehi capirai allora non preoccuparti o non impari mai dai facciamo non preoccuparti ehi fa parte dell'avventura scusami se ho rovinato tutto tranquillo non rovinerà certo la vacanza tu riposati torna quando stai meglio poi è una una cosa che la la il mal di mare è una cosa che non ho mai sofferto io effettivamente sono stato in nave nave raga per tornare in Sardegna per forza avendo la macchina per forza di cose in nave sono stato anche in alcuni barconi diciamo turistici per andare a Lecale in Sardegna lo stesso e non ho mai sofferto il mal di mare a parte quando effettivamente era una cosa allucinante perché c'è fa falla tempesta c'è praticamente allora prima di parlare con lei voglio riposare gli canocchiali vediamo i binoccoli sono certo al cento per cento che poi la prossima volta che cioè quando li useremo un'altra volta in una situazione veramente specifica intanto possiamo rianalizzare cioè perché no sarà uguale come prima non cambierà niente però non si sa mai non è una telecamera che fa foto a quanto pare sì non è una telecamera che fa video vabbè parliamo con Iceman la sorella quindi praticamente eliminerebbe il carbonio lasciando solo l'ossigeno ok sempre se esista una cosa facciamo ottimo non vedo l'ora di tuffarmi con te ti ricordo che è mia sorella e sti gazzi madonna e su che leva tira le palle scusate il francesismo ma porca miseria allora la fotocamera o che cosa che è il bastone scusa prendiamo il bastone non si sa mai che lo possiamo usare come un'arma a un arpione ma ricordatevi le regole vi prego l'hai mai usato su uno squalo no perché dovrei prendere una mano sembra una fotocamera prendiamo una fotocamera anche tu pensa a filmare io faccio strada scattiamo una foto del prima che allegria si c'è qualcosa sotto ragazzi c'è qualcosa sotto assolutamente ma quindi l'arpione l'ha preso lei a parte che allora non è fattibile una cosa a meno che non hai una cosa da palombaro tranquillamente senza compensare senza niente praticamente intanto è una scoperta anche poco incredibile nuotiamo intorno e cerchiamo una per loro bah bah mi sa molto di minchiata però come va capitano gradisci una birra con il tuo secondo tu non sei affatto il mio secondo il terzo no il giovane mozzo zelante ancora no il tuo cliente incredibilmente affascinante e danaroso vorrebbe gustarsi una rinfrescante bevanda in tua compagnia eh a lei non l'ho inquadrata per esempio cioè a parte dubitare che ci sia stato qualcosa tra lei e quell'altro tizio che non mi ricordo come si chiama quello che è andata a fare l'immersione non l'ho ancora inquadrata qui non saprei e se noi diciamo che lei deve rimanere concentrata perché effettivamente è così se lei è quella che guida la barca quindi si esatto non vale la tua vacca vabbè va un attimo in bagno ovviamente ci sarà il taglio ok mano di medano eh cioè quindi alla fine dei conti gli fa gli fa la stessa cosa che dice la stessa no era l'altro che gli ha detto la cosa ma è parlare di soldi con le signore ottimo giusto è che stavo pensando di prendermi una barca e speravo potessi darmi delle dritte ok abbiamo fatto le fighe di legno fino a un certo punto adesso me la vede sarei lieta di aiutarti a disfarti del tuo denaro comunque ora devo controllare che la Duke of Milan sia a posto sì signora il meteo sembra buono meglio controllare le mie sempre che sia come si dice un puntino di altre persone che magari ci raggiungono allora vabbè lì dovrebbe essere la stessa immagine no ok chissà dove le troveremmo le altre la prima in teoria dovrebbe essercene una per ogni come si dice per ogni capitolo più o meno no mannaggia la prendi imbecille allora felicità Dubò sì sì ah lei si chiama ok numero di conto bla 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 fa venio e grecia signoria Dubò la qui presente emissiva una forma di notifiche per i manchetti o pagamenti o degli reti previsti dal prestito personale che è stata concessa attualmente la cifra dovuta ammonta a un totale di 24.000 doll 25 di cui 3.400 3.400 a pagare entro e non oltre il 1. agosto 3.400 manco fossero mannaggia santa l'importo era dovuto entro quella data ma io non non si è dovuto madonna santa veramente ve ne ha dato circa 21.000 io avrei avuto un attimino un po' di pazienza con il risposto di 3.000 non verrà versato oltre ah ecco abbiamo una data 30 agosto del 2019 per dirne una due mesi dopo po' sono partito per la Germania saremo costretti a procedere con il pignoramento del bene in garanzia in imbarcazione ah ok lei è questa qua Charles Seran ok viaggio per l'immersione 5.000 dollari tour hotel 2004 gita di pesca edis 500 vendita laptop 600 totale mensile 8.500 chiamare la banca non dare contratto telefonico ok qui in generale si è fatto un attimino i conti per poter restituire il prestito ma lei può aprire questa e c'è un altro disegno ottimo dimmi che non c'è quell'attore ma non è Idris Selva lui dai non era Idris Selva non può essere lui è troppo veloce cioè non si capisce mi sembra lui ma cazzarola ma è lui cioè mi sembra lui e poi quello nella nave chi è? nella barchetta chi è scusa? non si capisce è uno con la ah no all'inizio lo fa vedere aspetta ah il fratello di Giulia ok Conrad ok quindi Conrad fugge da Idris Selva o vabbè non so se è veramente lui però no cosa ha da dire di questo profumo non ha da dire niente vabbè sono tutte cose che effettivamente abbiamo già visto quindi niente non dice niente poi un attimino non ha violazione di privacy leggera non è te la butto lì Sissi te la butto lì proprio al volo come andiamo flis non Sissi vabbè che razza di spiegato facciamo comprensione alla fine sei in vacanza ci sta a lasciarsi andare adesso fonderò un circolo di astemi un solo socio iscrizione a vita spero che i piccioncini se la spassino là sotto indagine cosa sai di questo solo voci e ipotesi mi sono tancato delle teorie e ho deciso di verificare di persona perché ti interessa la guerra come mai la passione per la guerra è iniziato tutto a scuola poi ho scoperto che mio nonno era in marine pluridecorato e ho deciso di ah tanto fa vedere si con bread ha aumentato quindi sono 5 personaggi che alla fine possiamo utilizzare perché allora in questi giochi praticamente quando ci sono le relazioni le correlazioni tra i personaggi praticamente sono i personaggi che alla fine possiamo utilizzare all'interno però effettivamente noi di segreti non abbiamo beccato niente ancora strano molto strano ragamma molto molto strano facciamo la storia può essere utile guarda una barca che c'è ora preoccupazione c'è qualcosa che non va una barca che è in mezzo a nulla voglio dire gente è stata indietro abbiamo dei sommozzatori in acqua abbiamo subito danni visto guardate la barca possiamo risolverla amico non è un problema che ne dite a 10 dollari e via ops colpa mia facciamo 20 ma questo è un imbecille questo è un imbecille ma porca puttana non mi piaceva di più quando faceva Iceman in X-Man ma porca miseria questo è un imbecille cioè è proprio un imbecille arriva siete in mezzo a nulla in mezzo a nulla con praticamente possibilità di scappare zero perché lasceresti tua sorella sotto 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 l'acqua cioè fare quel cazzo di immersione di merda e tu parli con tre persone tre persone che stanno sì ok superiorità numerica un cazzo se pareggiate con quell'altra specie di ameba che avete lì sotto però il discorso è questo cioè ma perché perché rischi così tanto perché rischiare così tanto con persone che non non sai nemmeno da dove arrivano non sai perché sono lì non sai da dove sono uscite e tu gli butti i soldi come a far capire che c'hai i soldi sei un imbecille allora sei proprio un imbecille ma con la I maiuscola ma porca miseria questo è il primo che se fa a farlo crepare lo facciamo crepare d'accordo siete bravi a mercanteggiare va bene ecco ancora ancora mannaggia santa oh questo è proprio idiota questo è proprio idiota speriamo crepi come c'è uno dei primi che deve crepare questo un conto è chiedere scusa un conto è fare l'imbecille sono due cose diverse conrad ha visto un'immagine di apertura conrad? davvero? davvero la torretta dietro oh è bravo conrad ma poi ma poi scusa cazzo l'ho preso anch'io quel coso ho guardato anch'io la torretta entreremo da lì santa pazienza guardale c'era il tanto di fargliela guarda di fargliela prendere veramente adesso usiamo sta imbecille meno male puoi saltare con un'immagine vabbè ehi fermi tutti un momento cazzo Alex ce l'abbiamo fatta non riesco a crederci è un sogno che si avvera non perdiamo tempo in esplorazione via 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 Giulia non fai dovresti togliere il respiratore meglio di no ma quel tubo è stretto e se ti incastri senza il ribritere eeeh vai ma che ma muori ma che me ne frega vai vai quel lì ha due metri cioè voglio dire che si avvera Basta un errore qui sotto ed è finita Solo uno, ricordalo So quello che faccio, ok? Non mi serve una balia Completata, completata, completata Ah questo è un segreto, ok Qui l'avremmo perso Missione di ricerca, volo a vista, aereo mobile Destinazione cancellata Allora, questo è praticamente l'aereo che stava cercando la nave Secondo me Questo è l'aereo che stava cercando la nave E poi sarà bello quando beccheremo la nave Sarà veramente figo quando beccheremo Ma io spero che comunque non sia tutta una questione di stare sott'acqua, raga Perché Cioè E poi perché è affondato l'aereo effettivamente? Cioè un conto si atterrava nella nave E poi lo Lo Come si dice Lo buttavano giù E' un altro discorso Torniamo indietro perché Eh 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 Bastardi 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 Lo vedi Lo vedi Sono pezzi di merda Sono pezzi E questo gli sta avvenendo un infarto Ok Probabile che ha beccato il bambino O qualcosa del genere Cioè voglio dire Vabbè Comunque sono E poi sono in abiti asciutti Ok No 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 Togli Togli Ah pensavo fosse Scusa Perché come lo stavo inquadrando Pensavo fosse sopra Non c'è nient'altro no? Ok Facciamo proseguire Non vedo niente Eh bravo Non vedo niente Cioè voglio dire Non c'è niente Hai sentito? Controlliamo Non c'è niente Allora non vorrei che fosse a colpo singolo Quest'arpione Perché già che me lo sta dicendo così Mi fa intuire il fatto che sia Motoscafo Che sia colpo Ma porca miseria Mannaggia la pupazza Però c'è raga È normale che mi viene da esplorare Ma non puoi Non puoi preferire così tanto Cioè voglio dire Però Se funzionasse quella pistola Capito? Mi sa che ho bagnato la mulla Meglio in acqua che a prove Capito? Era abbastanza palese Che ci fosse stato un jump scare Vabbè Però non è questione di schianto aereo Perché si è sparato un colpo alla testa E il piano Questa roba è qui sotto Da parecchio tempo Sì 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 Giulia Non toccare più niente No Dobbiamo uscire da qui subito Ma se non è manco la Non è interessato a noi Andiamo Aspetta Ok Savo che fosse il momento giusto Poi Un attimo dopo Non lo era più Ma nessun momento Quello giusto Io Io non Credo Oh Forse non si nota perché Sai sott'acqua Mi sono messo in ginocchio Ah Giulia Puoi sposarmi? Io Oh merda Alex mi spiace Non volevo È che Cioè stavano Per morire Giulia Sono serio Facciamo Alex Wow Che storia assurda Come finisce? Sì Sì Voglio sposarti Cazzo Lo sa quanto dura Questa quanto dura Che affascinoso eroe Ora che hai conquistato la tua sirena Ti va di lasciare questa trappola mortale Please Qui Giulia Stiamo risalendo Passor Ehi Dentro dove sbuca quella barca Ok Quello è il fratello di Giulia Che se la sta Se la sta a dare a gambe Ma parecchio Secondo me Prima la decompressione Lo sapevo Prima la decompressione Sì ok La decompressione Dio santo Ci stiamo mettendo troppo È una tortura Un altro paio di secondi Ok vai Via Via Ehi Che diavolo succede? Cos'è successo? Tranquillo Bello È tutto in ordine C'è stato un piccolo contrattempo Con il barbecue Santo cielo Sembrava che la barca fosse in fiamme Quindi Perché paghi l'oceano? Una barca di pescatori È finita contro la fune di sicurezza Oh è così che è andato? Già Rompevano Ma quando Corrad ha fatto piovere soldi Se ne sono andato Tanto tornano Comunque Non importa Tanto tornano imbecille Che avete trovato? Abbiamo Trovato l'aereo Ed è gigantesco Pieno di roba forte Oh signore ragazzi Potreste chiudere il becco Per un secondo Porca vacca Bella amico Auguri Gran bel colpo Salite e festeggiamo Ok Non tantissimo Però vabbè Ah ok Raga Capita fagiolo proprio Allora mi fa morire Ogni volta che parla lui Mi fa morire Perché effettivamente È la parte più Bella e significativa Sì Ovviamente c'è tutta la storia dietro Però quando Parla lui Ti dà molte più spiegazioni Rispetto Alla storia in sé Sì La storia Ti dà qualcosa Ma Lui è quello che ti dà Quel Punto in più Che ti fa capire Quel passaggio Che magari Non avevi ancora capito Ragazzi Ne parla nel prossimo video Abbiamo fatto un altro capitolo Abbiamo trovato due immagini Quindi sono abbastanza contento Oltre la prima Che abbiamo beccato Quindi siamo a Tre immagini Credo Dov'è Sì Tre immagini Per quanto riguarda i segreti A proposito Non ho visto Effettivamente Dove Dove stava Ecco qua Pino di volo Dell'aereo B29 Per la riconizione E il soccorso marittimo Il mezzo era già Era decollato Da una base statunitense Ok Recollegato Ad altri tre Punti In più Da dietro Ovviamente collegato Un altro Ok Va bene Io vi abbandono Qua per il momento Noi ci vediamo Ovviamente fra due giorni Sempre su Ogni volta Mi dimentico i titoli Che bellezza Sempre su Man of Medan Noi ci vediamo Alla prossima puntata Vi invito sempre A lasciare un mi piace A condividere il video A iscrivervi al canale A lasciare la campanellina Ovviamente Perché serve Per le notifiche Così in modo da Riuscire a capire Quando carico un video Ragazzotti Ci becchiamo Alla prossima Alla prossima